Ora imparerete come rimettervi in piano dopo una discesa. Di solito dovrete portarvi a una quota ben precisa. Per stabilire il momento giusto in cui iniziare a livellarvi, calcolate il 10% del rateo di discesa che appare sul variometro e iniziate a tirare la barra quando manca tale distanza alla quota che volete raggiungere. Per esempio, se state scendendo a 500 piedi al minuto, iniziate a livellarvi quando siete 50 piedi sopra la quota desiderata. Per livellarvi, date gradualmente manetta fino a 2400 giri e annullate il beccheggio usando la barra. Con l'aumento della velocità, il muso dell'aereo tenderà a cabrare. Spingete leggermente la barra per mantenere l'assetto piano, regolando di nuovo il compensatore se necessario. Ecco come si scende a velocità costante e ci si rimette in piano.